E non malati, buonasera. È il vostro Nando Scarpellini che ti parla. Dal momento che questa sera assisteremo ad un concerto ambientato, idealmente negli Stati, ho pensato bene di farvi conoscere la persona e le varie situazioni che hanno fatto sì che il calcio nascesse. In quel tempo tutto cominciò nel 300 d.C. quando un certo Pietro di Pietra di San Pietro torna indietro, decise di inventare un unico. Numero uno, perché era stanco di giocare a piazzerelle, santini e soprattutto di giocare ancora con lo scivolfatto. fatto con Pietra e importata da direttamente dal cazzo, non lavorata, uno spazio per il fondo schieno. Numero due, era stato licenziato dalla ECO e dal momento che si trovava disoccupato fu portato a ingegnarsi. Cosa fece? Decide di darsi da fare e penso a fratelli di lui. Penso a calciarlo. Penso a calciarlo. Penso a calciarlo. Onza! Non è già! Penso a calciarlo. Ehi! Non c'era da fare da fare avevoli. Paolo,